600.000 euro di investimenti per la messa in sicurezza di Fosso Grande. Sono partiti in queste ore i lavori che vedono in campo la Regione e le amministrazioni comunali di Pescara e Spoltore nella zona a ridosso della motorizzazione civile. In vista della stagione invernale si punta ad evitare i danni provocati dal maltempo negli anni scorsi. Un impegno mantenuto, soprattutto un impegno mantenuto grazie alla Regione Abruzzo, che interessa moltissimo gli abitanti di questa zona ma anche gli abitanti di via del circuito. Ricordiamo infatti che gli ingenti danni alle abitazioni che ci sono state a dicembre del 2013 sono state causate dall'alluvione del fiume ma soprattutto dall'ostruzione che hanno trovato le acque di questo fosso che hanno invaso appunto tutta la zona di via del circuito. È un lavoro per cui è previsto circa 100 giorni di tempo, speriamo di poterlo realizzare molto prima. Un impegno importante che però probabilmente poteva essere anche portato a termine prima. Sì, sicuramente quando si tratta di questioni di sicurezza sono impegni che devono essere all'ordine del giorno e soprattutto nelle priorità di ciascuna amministrazione. Qui però si tratta di un impegno che viene mantenuto dopo moltissimo tempo. Nessuno aveva mai pulito Fosso Grande, invece è un impegno assolutamente fondamentale. Questa grande sinergia tra i due comuni e grande collaborazione Spoltore e Pescara ha fatto in modo che la Regione, che ringrazio, oggi ha portato un risultato molto aspettato e molto atteso per far sì che quei grandi eventi negativi non si ripetano più.